Ho spero di avere l'onore di guidare il mio paese, l'ho detto in Italia però, stando al nostro programma, senza annacquare programmi, senza fare inciuci, abbiamo ottenuto i voti per mandare a casa Renzi e quindi mai nella vita governerò con Renzi, evidentemente, visto che vogliamo fare il contrario di quello che ha fatto lui.